Allora, siamo in casa per l'ora, all'ora! Formazione dalle squadre, scubbio, 32, Sondaluma, 3, Rui, 4, Moistel, 6, Briganti, 9, Copani, 13, Benedetti, 30, Ragazzo, 33, Caracolo, 40, Guantuo, 64, Buckel, 66, Cottafava, in Fondina, 1, Parasti, 10, Raccio Garibaldi, 11, Gottman, 19, Rockwind, 21, Cervo, 22, Farina, 39, Arunici, Arminatore, Timoni, ed ora l'approvazione del Verona, Orban, numero uno, Sara Ginevica, Rockwell, 5, 109, Gianluca, Luca Ceccarelli, 8, Luca Zucco, Peppe Russo, 9, Romanzatore, Nicola Ferrari, 10, Gianluca, Poglietta, 21, Gianluca, 21, Gianluca, 21, Gianluca, 22, Gianluca, 23, Gianluca, Poglietta, 33, Poglietta, 77, La Rocca, Pagliotis, San Pines, in Fondina, 26, Brassali, 4, Imposito, 6, Lesilie, 11, Big Man, 6, Gianluca, 17, Mareco, 32, Ielanovic, a migliorare, uno di noi, Andrea Mandorini, e per continuare a sognare, forza l'ora, forza, forza! domenie solo, come copione solo, E' bellissimo dobbiamo dire il servizio puntuale di Giorginio.